Eeeh whattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2 Non mi ricordo effettivamente ragazzi quanti like avevo chiesto nello scorso episodio Quindi non so se li abbiamo raggiunti o non li abbiamo raggiunti Insomma in ogni caso grazie a tutti ragazzi per il fantastico supporto che state dimostrando a questa serie Per la vostra incredibile partecipazione nei commenti Perché vedo ragazzi sempre che state lì a darmi buoni consigli e buoni suggerimenti Sappete che i commenti li leggo quasi sempre tutti per cui grazie veramente di cuore a tutti ragazzi Per questo nuovo episodio vediamo di raggiungere almeno i 50 like ragazzi dai e forse coraggio Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ho praticamente visitato tutta, tutta oddio Cioè buona parte dell'ala qua ovest diciamo così ovviamente ci sono ancora delle cose incomplete Poi siamo andati anche al piano superiore e ancora più su se non sbaglio dove purtroppo se non ricordo male avevo visto qualcosa di veramente schifoso Era capricciante arrampicarsi fuori insomma fuori dalla stazione di polizia Insomma è stata una cosa veramente orribile Allora adesso ragazzi non ci resta che andare a visitare un pochettino tutta quest'area qua Perché avevamo visto col caro che Claire è riuscita ad arrivare alla stazione Per cui il tipo ci ha detto devi arrivare al cortile attraverso insomma un qualche posto Che adesso ecco non mi ricordo nello specifico ma comunque dobbiamo andare a est Insomma nell'ala est questo è poco ma sicuro Ah allora qua possiamo inserire ok uno di quei codici perfetto Vediamo il tacquino della gente vediamo che cosa ci aveva scritto Il leone quindi sarebbe testa di leone un ramoscello e un pennuto spennato Allora leone sarebbe questo ok un ramoscello eccolo qua è un pennuto spennato Uè è incredibile ho raccolto il medaglione del leone certo che lo voglio certo E lo andrò subito a mettere sempre se si può mettere già ragazzi nella base qua della statua Vediamo un po' Tac ok perfetto Oh Wow Eh già Già ma il passaggio non è ancora aperto Beh direi di no lì o ci volevo un genio per scoprire che non è ancora aperto Ci mancano ancora due medaglioni insomma Non sprochiare a caso ecco Allora andiamo un attimino ragazzi qua fuori se c'è qualcosa Anche se io effettivamente devo andare dall'altra parte Per cui non so perché perdo tempo a ritornare da st'altra parte Va bene va bene allora vediamo che cosa abbiamo di qua ragazzi eh Che magari la cosa si fa ancora più interessante Allora Qua c'è una porta ma io guarderò prima qui Non c'è assolutamente niente d'accordo Permesso? Ammazza con che prepotenza che hai aperto la porta È permesso? C'è nessuno là Aspetta Allora qualcuno di voi mi ha anche suggerito Di prendere tutti gli oggetti che incontro E lasciarli nella cassa Per farsi comunque di averceli effettivamente a disposizione Quando mi servono E questo ragazzi è sicuramente un buon suggerimento E... Per cui insomma tutti gli oggetti che ho lasciato nella zona ovest Effettivamente dovrei andarli a prendere Guido della città Benvenuto a Raccoon City La città che ho spiegato Che è... Colosso farmaceutico Umbrella Corporation Ovviamente adesso non mi interessa Leggere tutto ciò Centrale Polizia Orfanotrofio Davvero molto interessante Metterlo sulla guida per la città Guarda ti invoglia proprio ad andarci Allora siccome mi è rimasto soltanto uno spazio libero E tra l'altro qua mi serve Come potete vedere La chiave di picche E... Vedete c'ho la... Che so sti rumori molesti? Devo purtroppo tornare alla cassa ragazzi A prendere la chiave che mi serve Eeeh Accidenti Ecco qua Allora Te mollo Una delle ste piantine Visto che c'ho pure lo spray medico Direi di lasciare un attimo qua la piantina Perché non si può mai sapere E di prendere la chiave La chiavela Questa qua di picche E di tornare di nuovo di sopra Ovviamente Poi tra l'altro mi avete consigliato comunque Di cercare di risparmiare colpi il più possibile Per quanto io sia nella modalità facile E di sparare gli zombie alle gambe Cercherò di ricordarmelo Ecco qua Scusa pure Che meraviglia È ancora utile Questa chiave sembrerebbe di sì Menomale che c'è state voi ragazzi Che merate sti suggerimenti Ammazza E che c'è sta Nero plano qua dentro Allora Qua c'è una porta Qua c'è una porta Qua c'è qualcosa Che non capisco cosa diavolo sia Allora Proporrei di andare prima di qua Quindi Art room Che caspita vorrebbe dire Oh E là C'è qualcuno là Oh E questa è la statua Della foto Raga Qua cosa c'è La pietra rossa Il rubino che affascinò Edoardo Il principe nero La perla bevuta Della regina La perla bevuta Dalla regina del nilo Il diamante che portò Una regina a chigliottina Questa misteriosa pietra rossa Non è che è il caso Più recente Le sue origini sono sconosciute Si dice che adornasse Il portaggioio di una nobile donna Che fosse persino Dedicata a un saggio re Questa pietra Lungo rimasta a volte Il mistero Sarà esposta a un'asta A cui di certo Parteciperanno Molti appassionati Ah Perché dietro alla bellezza Si annida il male Questa gemma Infatti Tramutato Sovrani illuminati Indespoti Più crudeli Di Caligola E' proprio il sangue In cui sono intrise Queste pietre Ad essere la bramosia Nei cuori della gente Interessante Anche questo Wuuu La chiave Questa mi serviva Da qualche parte Mi ricordo Mi serviva una tessera Dentro una camera C'era una porta Il cui accesso Necessitava appunto Un tesserino Bello il braccio sinistro Della statua Io lo metto subito Guarda Tieni amico Tieni Te l'hanno amputato Mi dispiace moltissimo Solo che gli manca Una cosa Questo dalla foto L'abbiamo visto proprio Chiarissimamente Ragazzi Guardate Manca una carta Rossa E poi magari Ci svelerà Qualche segreto Incredibile Vediamo se qua C'è qualche altra Cosa da fare Posso prendere Qualcos'altro Qua No Sembrerebbe di no Ragazzi Niente scherzi D'epifero Niente scherzi Della cippa Allora Qua ci sono Delle Assi di legno Che non so se Prendere a questo punto Perché poi Non mi rimane Nessuno Spazio C'ho ancora Troppo poco spazio Nel mio inventario Allora Qua che ci serve Ok ci serve Una leva Qua ragazzi Benissimo Sta segnando Ovviamente Tutto sulla mappa Come potete vedere Cioè ragazzi Indica tutto C'è pazzesco Fessura manovella Cioè ti ricorda pure Che cosa ti serve Che bello Effettivamente Questo forse Per gli amanti Di resident evil Questa è una cosa Troppo Ma che cazzo Succede What the fuck Ma che cavolo Minchia è arrivato Il fumo Fino a qua Ragazzi ci dovete Andare un attimo Piano con l'alcol Oh Allora Qua c'è una porta Qua è precipitato Qualcosa Questo è chiarissimo Ammazza Mano male Che non sono venuta Prima di qua Oh Se no ci rimane Proprio secca Amico Ma che cavolo È successo Che cavolo È successo Qua c'è un'altra pianta Qua possiamo aprire Ma perché Perché Ah Ok 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 Infatti possiamo uscire Da qua ragazzi Dalla scala Antincendio Possiamo andare Ecco Eccolo là Che si risvega Eeeh Ciao Era felicissima Di rivederlo Eccolo là Ammazza Oh Ecco Aspetta un attimo Sì ma apri la porta Apri la porta C'è del tenero Già Ah Serve una chiave Purtroppo No Ma Tu stai bene Diciamo Che Sopravvivo Ottimo Notizie di tuo No Non ancora Claire Non arrenderti Sono certo Che lo troveremo Ah Ma che cavolo Ma c'era bisogno Di spaventarsi così Parlo con me stessa Sa che significa Sì Ora di cena Oh merda Eeeh Vabbè Non preoccuparti Per me Fai attenzione Certo Certo Baderò le mie chiappe Claire devi andare Ora Ma dove va Sta poveretta Ce la faremo Insieme Oh Ma già sono innamorati Allora Ma che tenerezza Che c'è fra questi due ragazzi Una storia d'amore C'è un problema Eh sì Sono circondato da zombie Marvin mi ricevi Oh Marvin Accidenti Accidenti a te Ok queste possiamo usarle Per rompere questa catena Questo mi pare super ovvio Ma si rompono una volta usate O ci rimangono Ci rimangono Perché c'era un'altra porta Ragazzi me lo ricordo Che aveva una catena Solo che non mi ricordo minimamente dove Porta chiusa Porta con catena Ce n'è una qua Per entrare in questa stanzetta Oh merda Questi si alzeranno tutti Vero Figuriamoci se non si alzano Allora qua c'eravamo già stati C'erano i proiettili Io li ho lasciati lì Ah eccoli qua Come un imbecille Meno male che la mappa li ha indicati Questa ragazzi Questa cosa della mappa Secondo me ha prova di idiota Comunque perché se Se aiuta me Direi che è tutto dire Ah sì Qua ci siamo stati E come E come non ci siamo stati Allora Però io prima di andare A scalanti incendi Cioè volevo andare a vedere Tutte queste altre stanze Come ci arrivo Alle altre stanze Devo passare da qua ragazzi E come ci passo da qua Scusa eh Non posso Non posso Ovviamente Questa cosa è chiusa Ci mancherebbe pure Come ci arrivo Allora in questa stanza più grande Possiamo entrare Però in queste altre In queste altre La vedo difficile Vabbè Ok qua sarà un Casi Sarà Eeeh Va vaffan Ecco Forse potevo evitare Ma che cazzo Ma posso entrare Ah ecco qua posso entrare Ragazzi Ce n'è un'altra Sbam Non dite che culo Totalmente Totalmente a caso Ragazzi eh Sì 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 Eeeh Eeeh Eccoli là Ovviamente riusciranno ad entrare Eeeh Eeeh Vabbè Oh merda La mia mira come sempre Fa cagare Eeeh Fa cagare la grande Gli vorrei tanto schiacciare la testa Ma non posso Eeeh Eccoli Eccoli là Ne arriva un altro E vai E vabbè Ma vabbè Oh Oh E vabbè Ma ragazzi sbrego più colpi così Comunque né Eeeh Un'invasione Ok Perfetto Cosa abbiamo qua Dispositivo elettrico Ci serviva questo fusibile Ci serviva da qualche parte Me lo ricordo Era lì all'ingresso Vero Non posso più prenderlo Che palle Allora Attualmente stare in questa stanza Mi sa che è totalmente inutile Perché Non posso prendere niente Di quello che c'è Polvere da sparo E vabbè Qua c'è qualcosa Qua c'è una pianta E vabbè Già l'avevamo vista Questa l'aveva spuntato Granata stordente Aspetta Equipaggiata La schermata L'inventario Può essere usata Per contrattaccare Blablabla Ok Tanto non posso prenderla Io a te non c'ho Ti ho sparato Grandissimo Pio Da una cosiddetta Zozza Allora Aspettate Con calma Fatemi vedere prima Cosa c'è Allora C'è un fusibile E questo è chiarissimo Si può sbloccare Se la porterà sbloccata Da un motivo c'era Accidenti a me Accidenti a me Una valvola Ci serviva In quella stanza Delle docce Certo E vabbè Ma va a cagare Va Te e tua sorella Mori Ecco Beccati questo Ovviamente Dobbiamo cercare Di farci prendere Il problema Il problema Adesso Vedete quanta roba c'è Dentro a sto maledetto Ufficio alla est Devo tornare All'ingresso Però Devo tornare All'ingresso Devo tornare All'ingresso Cerchiamo di tornare All'ingresso Sempre se non mi perdo Perché Il mio senso Dell'orientamento Fa sempre Direttamente cagare Qualcuno C'è qualcuno Che ci aspetta Qua Si 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 Non posso passare Non posso passare Da qua Non posso passare Da qua Ah Qua andava Il fusibile A cipicchia Emmo Come faccio Allora Mi si è liberato Un posto Perché Ho usato il coltello Forse per questo Allora Devo andare a prendere Devo andare a prendere Il fusibile Si o si Priorità Priorità Assoluta Priorità Dobbiamo rientrare Nell'ufficio Nell'ufficio Alla est Devo Senza paura Senza timore Ci sono io Qui con te Anche se mi straccaco Addosso più di te Questo te lo posso Assicurare Tac È permesso Eh vabbè Ma quanta gente C'è qui Ancora te sei Posibile Fusibile 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 Ok si ragazzi Si si Voi state pure qua A festeggiare Ok Ecco qua Subito Yippie do E vai Così l'accesso Di nuovo Di nuovo Disponibile Così faremo venire Pure questi pezzi Di merda Di qua Ma forse adesso Posso chiudere Aprire No Deve rimanere aperta Va bene Ok Allora Io direi ragazzi Di Prendere tutto quello Che possiamo prendere E fare come Come mi avete detto Lasciare poi Nella cassa Le cose Che magari ci serviranno Più tardi Questa ci servirà Più tardi Io direi Di ritornare All'ufficio Alla est A prendere Tutto quello Che posso prendere Potrei passare da qua Senza rifare Tutto il giro Quindi questo Essere proprio Imbicilli C'è una manopola C'è Ci sono i proiettili Ci sono pianti C'è una piantina Vabbè Non è che ci sta Chissà che cosa Ma ci sta la valvola Che ci serviva In quell'altra Che amere Che bello Avere l'accesso Libero Ah ecco Era questa L'accesso bloccato Dalla sedia Grandioso Ragazzi Avete visto Quante belle scoperte Che ho fatto Eh Perfetto Allora C'è questo C'è Ehm Poi avere la spara Qualità alta Ok Prendiamo tutto Prendiamo tutto Senza indugge E' bolla Ma che cavolo Ah Oddio No Ecco Pali Lio Ma che fai No Ma dai Mi ha ferito Eh Che due palle Grosse Ma non c'ho niente Con me Vero Per curarmi Ah C'ho queste Però Voi mi avete consigliato Di utilizzare Le cure Solo quando tipo La salute È in rosso Una roba del genere Va bene Intanto lasciamo Qua le cose Che abbiamo preso Poi proporrei Di ritornare Di nuovo Lasciamo questo Lasciamo questo Sono rimasti Solo cinque Proiettili Di riserva Davvero Siamo usate Pinse pazzesche Ah qua ci sono Dei proiettili Ste pinze Insomma Per aprire L'altra porta Bloccata Dalla catena Meno male Che le abbiamo Trovate Almeno Ok Rientriamo Cercando di non Farci mordere Di nuovo Come degli imbecilli Allora Devo andare Del lanzo Ecco qua E vabbè E che ragazzi Vi rendete conto Che questi Sono fastidiosi Pure se strisciano Ovviamente Non lo sono Come quando Camminano Direttamente Però Prendiamo pure La piantina I proiettili I proiettili I proiettili Che sono le cose Che mi interessano Di più Minchia ragazzi Io ho un senso Di orientamento Veramente pessimo Comunque Eccoli qua Oh Perfetto Dai Almeno abbiamo Rimpolpato un po' Le sgarde E qua ci deve essere Un'altra cosa Era qua Eccola qua Ok Perfetto Ho preso tutto Non ci facciamo Beccare di nuovo Che comodità Avere l'ingresso Di qua Ok Mettiamo tutto Lo so Leo È stata colpa mia Mi dispiace Vederti così Moribondo Ma è stata colpa mia Va bene Allora Lasciamo pure La piantina Ma la cassa C'è uno spazio limitato C'è uno spazio limitato Accidenti Cioè vedete Cioè vedete tipo Ah l'armadietto Sono così diretto Allora comunque Ok Ok Adesso si possiamo usarla Si però ci stanno Da sole occupano uno slot E i proiettili I rispettivi proiettili Anche Cioè quindi Già 4 slot Su 8 Sono occupati Dalle armi Cioè quindi Abbiamo a disposizione Soltanto 4 slot Per portare le nostre cose E non va bene Non va bene Vabbè comunque Sono contenta Perché c'è il fucilazzo Vorrei pure vedere Allora Adesso Devo andare Al piano superiore Posso passare di qua Vero? Sì Posso andare sopra Tu non t'azzardare Non t'azzarda Spaccare quella finestra Che cavolo era Minchia Era giusto dietro di me Era giusto dietro di me Ah Eccola Ah Ma che bravo Ha fatto un volone sotto Pazzesco È stata bellissima La scena Piglia mia Davvero bellissima Proprio indimenticabile Allora Devo entrare qua dentro Sì Esatto Che è uscito questo Dall'armadietto L'altra volta Abbiamo fatto pigliare un colpo Che lo diciamo a fa Ecco fatto Girala pure A posto E guardate che so armata Non fate scherzi Del cazzo Va bene Avete lasciato l'acqua aperta Ragazzi Voi sapete Quando arriva la bolletta Dell'acqua Eh Tu Tu Già so che succederà qualcosa Cioè Come posso non aspettarmi Che questo pezzo di marda Si rialzi Ragazzi Ecco Mi ha salvato pure la partita Tra l'altro E se io te sparo in testa Direttamente Boh Spero di aver fatto bene Comunque Allora Eh Vabbè Di nuovo Questi armadietti Della cippa No Sinceramente no Dobbiamo da priorità A cose che ci possono servire Per andare in altri posti Ah ecco Siamo riusciti nel corridoio Ma dove cazzo Era la sono riuscita Aspetta un attimo Perché già ho perso il tempo Il senso di orientamento Minchia Oh Tutta Tutta sta zona È schifosamente rossa Ragazzi Wow Vabbè Allora no Questa è una È una zona Che da cui prima Non potevo accedere Perché come potete vedere Qua era chiuso Quindi ci si poteva passare Solo Ed unicamente Da qui Per cui I colpi per fucile Li prendo Molto Molto Volentieri Benissimo Io non so se usare fucile adesso Però ragazzi Sinceramente È Sprecare i colpi Col fucile Cosa dia Che cazzo Oh 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 fucile Si Si fucile Si Oh Oh mio dio Cos'è Cosa sei Oh mio dio Oh mio dio Che cazzo Ok 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 C'ho le mani sudate Ok Mi ha fatto prendere un infarto Come mi ha volato a tosto Sto pezzo di infarto Che è sto schifo Non c'è mai Finello schifo Qui E che palle Allora Qua Altra ampia zona Per fortuna Vediamo un po' Ufficio Stars E qua c'è L'armeria Allora Vediamo un po' Che cosa abbiamo qui Infatti sta che è scomodo Ragazzi Dover stare ogni volta A trovare una casa Insomma Eccetera Allora Cassaforte ignifuga Dotata di combinazione A tre cifre Spostata dall'ufficio All'ufficio Alla ovest Forse è quella Che avevo già trovato Può essere Ecco qua la combinazione La devo assolutamente fotografare Aspettate ragazzi Perché se no Me la scordo Cioè Proprio Di sicuro Allora All'ufficio Che diceva All'ufficio Alla ovest Deve essere quella Che ho già trovato Vero Ok A posto Vediamo un po' Primo piano Ufficio Alla ovest Sì è quella Che ho già trovato E vai Cosa c'è qui Polvere da spa Una batteria Il problema è che Se trovo qualcosa Di più importante Però sta batteria Dovrà servire a qualcosa Per forza Colpi 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 Certo sono braccetti Dopo che qualcuno Mi è saltato addosso Che schifo Se brilla Quella affare lì Ci servirà Tipo un dispositivo Da collegarci Vero Una roba del genere Vedete Ah questo Per aprire È necessaria L'autenticazione Dell'account Inserire la chiavetta Una porta usb Quindi per aprire La porta dell'armeria In pratica Dobbiamo trovare Una chiavetta usb Va bene Terremo a mente Terremo a mente Che Qua c'è una granata Accecante Che il dispositivo USB Ci serve qua Allora Qua cosa c'è Polvere da sparo Wow Un altro spray medico Oddio ragazzi Vorrei portare tutto Con me Ve lo giuro Però ogni volta Sta a portare Fino alla cassa Cioè ce ne dovrebbe Sta una Per ogni piano Però sarebbe facile Così insomma Eh Leo Lo so Lo so Non è facile Nessuno ha mai detto Che sarebbe stato facile Il corridoio è risolto Ma a me sta cosa Mi è puzzata E merda Proprio Che cos'è Line and rule Ah serve Niente Una chiave Chiave di quadri Che io ovviamente Non ho Perché questa porta Era bloccata Se c'era Se era bloccata Un motivo C'era Ho trovato L'altro medaglio L'ho trovato Caro agente Cosa diceva Il tuo taccuino Riguardo alla statua Del cavallo Allora Che cos'è quella cosa Quelle due Ah Poi c'è uno scorpione E poi che cavolo È quella affare lì Non vedo niente Non capisco Che forme sono Vabbè dai proviamo Allora Una cosa divisa a metà Poi lo scorpione E poi che cos'era Quella cosa Chissà che cos'era Sarà stata la donna Può essere No Sarà stato questo Ok Perfetto Era l'anfora Perfetto Vedete ragazzi Che ho lasciato il posto Per il medaglione Manca a farla apposta Perfetto Abbiamo trovato la mappa Dei piani superiori Ragazzi Per fortuna Ammazza Perché sto posto È gigante Ed è fantastico D'esplorare tutto Ragazzi È bellissimo Allora Io sono qua Qua c'è la biblioteca E qua c'è la lavanderia Che però appunto C'è la porta di quadri Allora Qua però c'è qualcosa Di incompleto Perché Ok Perché c'è qualcosa qui Che non posso prendere Va bene Ok Va bene Allora io proporrei Di tornare di sotto Alla cassa Sì Di tornare intanto di sotto Non mi fate prendere colpi Vi prego Perché mi è bastato E mi ha avanzato Quello che ho vissuto Un attimo qua Dobbiamo tornare di sotto Tanto Devo trovare le scale Che sono esattamente qua Tacchete Tacchete Alla Sì Qua c'è la nostra amica Allora So ragazzi Mi avete detto Di mirare alle gambe Ah Perfetto Minchia Eri così Spappolata Che sono bastati due colpi Allora Devo tornare alla cassa Aiuto Aiuto Non mi tocca E che schifo Riversi Basta Allora Da dove dovevo passare Qua c'è la cassaforte Direi di andarci subito Eccola qua Ammazza Tu non tazzardare Ah Non c'ha la testa Perfetto Non si può alzare Allora ragazzi Direi di aprirla Anche se quello che è all'interno Non potrò prenderlo Perché non c'è più spazio Allora Vediamo un attimo Che diceva Allora Sinistra Nove Giusto Poi Ad Ok no Forse devo fare Allora Sinistra Nove Poi Destra Quindici Poi Sinistra Sette Ehi E vai Finalmente Ho trovato Un borsello Sì 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 Che bello Ragazzi Ma quanto è bello Sto gioco Mi chiede Soddisfazione Adesso C'ho più spazio C'ho più spazio C'ho più spazio Yuppie Yuppie Vabbè due Due per adesso Però Il tenente Il tenente dan E devo passare Proprio da Quell'ufficio Ma quanto Sono imbecille Ragazzi Quanto Possesse Imbecille E chi c'è qua Oh Tenente dan Lo sai che ho trovato Un borsello Ho trovato pure L'altro medaglione Oddio Che c'ho Poveraccio Ragazzi Sta per esalare Alla fine So che li dovrò Sparare io In testa Lo so che Andranno così Le cose Ok Mettiamo questo qua Ecco fatto C'è manca L'ultimo Ma suppongo Che non sarà Così facile Trovare l'ultimo Tenente dan Aspetti un attimo A morire Perché devo poggiare Le cose nella cassa Insomma Ecco Non mi faccia storie Per favore Allora Che cosa possiamo lasciare Nella cassa Anzi Che cosa possiamo prendere Che cosa ci poteva Servire ragazzi Effettivamente Adesso Non abbiamo niente Tranne Le pinzasse Per rompere Un'altra catena Effettivamente Però 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 Ci stanno ancora Tante altre stanze Da Da visitare Effettivamente Il piano di sopra Come potete vedere Ragazzi È praticamente tutto In completo La chiavetta SB Qua c'è un lucchetto A combinazione Dobbiamo entrare in biblioteca Insomma Ci stanno ancora Tante Tante cose Da Da vedere Da visitare Io però volevo andare Ad aprire quella porta Con la catena Ragazzi Allora No Mo ce devo andare Per forza Non continua Sto gioco È un delitto Capite Cioè io quando ho giocato La volta scorsa Ho finito di registrare il video Mi sono detto No ma adesso devo aspettare La prossima volta Per continuare il gioco Cioè sto gioco Da chiacchiappa troppo Cioè sto gioco La vita Sto gioco È bellissimo È troppo bello Cazzo 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 Oh Ecco qua Eeeh Scusa È un altro Lì E basta E vabbè E vabbè Ragazzi Qua c'è una pianta Qua c'è una pianta Sarà per entrare qualcuno Qua dentro Già lo so Ma qua serve una chiave Chiave di fuori Perfetto Ormai abbiamo tutti Tutti i semi del poker La granata Però adesso non la voglio Anche se probabilmente Voi mi direte Di prenderla Perché magari può essere utile Vabbè allora una la prendo Dai visto che c'ho ancora Qualche spazio Ah sono riuscita Dall'altro corridoio Ok Però nell'archivio Non posso entrare Perché entrambe le porte Sono bloccate Tra l'altro Da chiavi di semi diversi Va bene Ok dai Mi ritengo abbastanza Posso ritenere Abbastanza soddisfatta Per oggi Dai non dico totalmente Soddisfatta Perché non è che Chissà che cavolo Di progressi ho fatto Però 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 Qualcosina Sono riuscita a combinarla Ah mi ero dimenticata Di lei tenente È ancora vivo Eh Per poco però Vedo un po' palliduccio Eh tu che dici Allora Quindi la chiave questa Posso effettivamente Scartarla Se me la metto Nell'inventario Mi dispiace Che non posso Combinare ste cose Cioè però Potevano fare Di mettere Tutte le cose uguali Nello stesso slot Però magari Appunto Evidentemente Poi ragazzi Le cose sarebbero Troppo Troppo Facili Allora Scartiamo questo Visto che posso farlo Ecco fatto Tac Che dire Vabbè ragazzi Allora La prossima volta Questa Solo che Come ci entro Qua Passando da qui Si può passare Qua Ok passando da qua Posso continuare Lì qua ragazzi Andare poi a visitare Tutta quest'altra zona Ovviamente Se avete Suggerimenti ragazzi Su come procedere Magari Ovviamente Senza spoiler La prossima volta La prossima volta Ovviamente ragazzi Lasciate tutti i suggerimenti Qua sotto in commento Come fate già sempre Comunque Quindi Grazie ancora per questo Che di ragazzi Sto gioco Mi sta Mi sta Chiappando tantissimo Le sue meccaniche Mi piacciono veramente Da impazzire Poi aggiornato così Voglio dire È fantastico Secondo me Veramente fantastico Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Ciao a tutti ragazzi La giocherina Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Quest'anti aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nei miei social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao